buongiorno a tutti eccoci allora venerdì oggi faremo un total body una mezz'oretta insieme riscaldamento partiamo subito e non ci servono attrezzi oggi quindi ci dedichiamo completamente il corpo libero perché mi suona così ok allora partiamo con un bello scuote di scaldamento un po dinamico oggi e passiamo a corsetta sul posto un po dinamici riscaldamento oggi portiamo subito sul cuore sentire la continuate non so se la ecco questa la telecamera ok tolgo allora divarecchiamo bene le gambe un po più ampie delle spalle scendiamo in squat e andiamo a alzare la gamba alternata braccio braccio sul ginocchio via un po dinamici su tolgo facciamo un po di calciate glutei però questa volta un po dinamica quindi saltellando se ce la facciamo dai chi non ce la fa la fa invece senza saltelli va bene lo stesso perché riesce a evitare di saltare ok prendiamo fiato andiamo adesso di nuovo andiamo adesso di nuovo di varicare scendiamo tocco tocco scendo tocco tocco scendo ginocchio piede scendo ginocchio allungo piede scendo ginocchio allungo scendo ginocchio allungo piede scendo ginocchio allungo piede sono coinvolggo coso di potendo ... unos8 Facciamo ancora un po' di saltellato, lo facciamo su un piede, due saltelli da una parte e due saltelli dall'altra, un po' come avessimo una corda, tanta, tanta. Ok, molto bene, partiamo con mountain climber e via, procediamo il tutto, bene su e andiamo, spingo, 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 spingiamoci un po' di dinamismo oggi, un po' di sprint. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, uno squat e un jump. Via, squat, jump, squat, jump, squat, jump, squat, jump, squat, giù, jump. Ultimo, sciolgo, rimangiamo giù, impulsato, braccio avanti, compriamo fiato oggi, un po' più, corpo libero, via. Divarichiamo un po' di più, scelgo. Il resto lavoriamo 20 secondi, eh, noi che lavoriamo tanto, però un po' più brillo. 3, 2, 1, stop, sciolgo. Allora, adesso andiamo, sempre in squat, vengo su, spingo le gambe in là. Allora, vado in squat, 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 spingo. Gamba, unisco, squat. Ok, stop. Facciamo un bel jumping jacks. Mettiamoci anche lo squat, dai, allora, parto giù, jumpy, giù, jumpy, giù. 3, 2, 1, andiamo adesso in corsa con ginocchia avanti. 3, 2, 1, via, un po' più avanti le ginocchia, un po' più su, 20 secondi, 5, 4, 3, 2, testo, recupero. Allora, squat e pulsate un jump. Allora, 1, 2, jump. 1, 2, jump. Ok, prolly. Andiamo giù e facciamo un plank jack. Quindi apro e chiudo gambe e possiamo farlo anche saltato, se volete, se no una gamba per volga. Ok, stop. Molto bene, andiamo giù, andiamo a fare un plank in rotazione, appoggio gomiti. Molto bene, andiamo giù, andiamo a fare un plank in rotazione, appoggio gomiti, appoggio gomiti, appoggio gomiti, appoggio gomiti, appoggio gomiti, appoggio gomiti, appoggio gomiti. Ritmo, anche qui potete farlo senza salto, appoggio gomiti, appoggio gomiti, appoggio gomiti, appoggio gomiti, appoggio gomiti, appoggio gomiti. Quindi col pugno, quindi 1, 2, 1, 2, l'altro. 1, 2, allungo. 1, 2, allungo. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok, sciolgo. Sempre pugni in avanti, in posizione hold. Squat. 3, 2, 1, giù, rotazione. Rotazione, bene, del busto. Take a ingle. Ok, stop. Adesso facciamo 1, squat con salto per unire i piedi. Allora, partiamo con squat, facciamo squat unito. Ta, 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 su e giù, giù, su. 1, 2, 1, stop. Ok. Jump in jacks, questo però in avanti questa volta. Pronti via. 3, 2, 1, stop. 4, 3, 2, 1, stop. Lavoriamo sullo skater senza scendere, quindi in appoggio andiamo a fare uno step touch, dai, in questo modo, ok? Ok, stop. Rotazione del busto, con salteglie, piedi miti, pliometria. Andiamo a fare questo. Ok, sciolgo. Tiriamo su le gambe, quindi scendo giù, saltello verso l'alto. Se non volete farlo andate su gambe una per volta, se no, un miscoscello, un miscoscello. Un miscoscello. Fermi davanti e muro solo i piedi dietro. Ok, stop. Torniamo giù, le braccia distese, top, spalla. Ok, top. Ok, sciolgo. Uh, facciamo un po' di laterali. Ok, appoggio il gomito, vengo su, giù, laterali. Ok. Posizione, vado. Blanche laterale. Cinque. Finito. Ok, stop. All'altro lato, ovviamente. Non possiamo mica dimenticarci. Grazie. Via. Sono sudata, via. Sì, dai. Un bel bagno, cioè, so, di sudore. Ok, stop. Passiamo un po' di addome, che non abbiamo ancora fatto. Andiamo a fare un po' di bicycle. Bicycle in appoggio, gomiti. E spingiamo. Ok, stop. Sempre in questa posizione. Andiamo adesso. Su e giù gambe. Cioè, facciamo sforbiciata. Ok? Yeah. Ok. Uno, stop. Scendiamo giù. Andiamo a sollevare la parte alta. Facciamo su e giù gambe. Ok, su, solleviamo. Unite, scendiamo. Due, uno, stop. Siamo in hold. Braccia alte, gambe alte. Ok, posizione. Ok, posizione. Vero. Otto. Tre, tre, due, uno, stop. Ok, torniamo in piedi e lavoriamo come avessimo la corda. Saltiamo, ok? Possiamo anche ruotare un po'. Devo mettere. Testa, gamba, andiamo a fare un po' di pancia laterale. Allora, spingo qui e spingo, 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 spingo. Continuate che vi faccio entrare Chiara. Allora, spingo, 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 spingo. E anche dall'altra. Quindi salgo e scendo. Quindi vado su e vado giù, su, 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 giù, dai. Ok. Jumping jacks, ci giociamo là. Vieni fuori le braccia, dai. Le varie azioni di jumpy. Ok, sciogliere. Corsettina sul posto. Teniamo le mani alte. In questo modo. E via. Due, uno, stop. Ok. Un po' di push up. Che ci mancano ancora. Siamo quasi alla fine, dai. Scendiamo. Ultimo. 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 Stop. Ok. Molto bene. Molto bene. Facciamo un pochino di alzata gamba dietro, in posizione di plank. Facciamo questo. Ta, ta. Falce a sedere. Ok, stop. Apro, chiudo, spingo avanti gamba. Apro, chiudo, vengo, vengo, vengo. Apro, chiudo, avanti, avanti. Ok, stop. Andiamo a fare un po' di squat jump. Che ci mancano? Dai, siamo quasi alla fine. Allora, scendo. Piccoli saltelli, eh. Stop. Andiamo a fare uno squat. Hold. Fermi. In basso. Ok. Posizione. Ehi, stop. Molto bene. Affondi, li abbiamo già fatti. Direi di no. Però facciamo in fondo. Sempre dalla stessa gamba. Quindi partiamo. Senti il lato un po'. Lo spostiamo. Ok, stop. Dall'altro lato. Passiamo pure i piedi davanti. Con piccoli saltelli. Sempre dinamico. Yeah. Scusate. 3, 2, 1, stop. Squat. Andiamo a fare un thruster. Senza i pesi. Quindi, quindi, giù. Con le braccia. Sulle spalle. Poi le spingo giù. Su. 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 Dai, siamo quasi alla fine. Ancora qualche esercizio. Pochi, pochi, pochi. Come avessimo il kettlebell. Facciamo passare le braccia. Come avessimo il kettlebell di mezzo alle gambe. Ok? Via. Da. Scendo. Vado. Vado. Su. Lascia andare giù le braccia. Ginote, attenzione. Ero super nel punto dei piedi, eh. Mi raccomando. Sempre bene la posizione. Ok. Facciamo sempre un jumping jacks. Chiudendo però gli squat. Quindi, tam, 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 tam. Come dire, vittoria. Siamo alla fine. Dai, ci voglierei. Facciamo un po' di affondi alternati. Un po' dinamici. Ultimo. Dai. Grandi, ragazzi. Ti abbiamo fatto un po' di stretching. Andiamo in. Allungo gamba. Facciamo 30 secondi. Da una gamba. Tiriamo bene. Sempre attenzione, ginocchio, eh. Ginocchio. Un po' di affondi alternati. Fantastica, ragazzi. L'abbiamo fatta. Tiriamo. Tiriamo. Facciamo bene sto stretching. Ok. Posiamo sempre la stessa gamba. La mettiamo avanti. Posizione. E andiamo a tirare dietro. Così. Andiamo. Andiamo bene sul busto. Sì. Sì. 30 secondi. Ok. Andiamo dall'altra gamba. Andiamo su. Posizione. e iniziamo a allungare. 30 secondi. Anche qua. Andiamo bene, ragazzi. Slungiamo. 30 secondi. 30 secondi. Piano piano, piano, passiamo in basso. Ci mettiamo in posizione. Vieni avanti. Drizziamo bene. E allungiamo. Potete allungare anche l'anca dall'altro lato, eh. qua. Qua. Piano piano, passiamo in basso. Piano piano, passiamo in basso. ok ok molto bene facciamo ancora il gatto e vi lascio andare muovete anche bene il collo ok ragazzi bravi bravissimi devo finirvi bene non abbiamo avuto il tempo oggi com'è andata? tutto a posto? e il capelli che ho? grazie a tutti grazie a tutti